inaugurata ieri giovedì 20 giugno la riqualificata piazza salvatore russi l'area di circa 1400 metri quadri ha subito un grosso intervento di riqualificazione un progetto fortemente voluto dall'amministrazione zaccaria che ha l'obiettivo di offrire alle famiglie un luogo sicuro e accogliente nel quale i bambini possano giocare all'aperto e socializzare con i loro coetanei la nuova piazza è stata pensata per essere un punto di ritrovo per la comunità con area verde panchine e spazi attrezzati per volgere attività ludiche il parco giochi è stato progettato con attenzione per la sicurezza dei bambini con giochi colorati e divertenti adatti a tutte l'età l'inaugurazione della piazza con una cerimonia ufficiale del taglio del nastro e la benedizione è stata effettuata dal sindaco francesco zaccaria dall'assessore ai lavori pubblici gialluca cisternino e dal dirigente di settore rosa belfiore i lavori eseguiti hanno riguardato la demolizione e la ricostruzione dell'isola direzionale in via zanibelli in direzione via fratelli rosselli la realizzazione di una nuova isola direzionale in via zanibelli munita di alberature e parcheggi la messa in quota della piazza e la realizzazione di pavimentazione drenante oltre che la realizzazione di una play area su pavimentazione antitrauma per bambini panchine alberi e nuova illuminazione a led c'è una nuova piazza piazza salvatore russi una piazza attesa da più di trent'anni un quartiere che rivive grazie a questa piazza che fino a ieri è uno spazio colveroso di mille e quattrocento metri quadrati oggi diventa spazio di socialità le piazze sono importanti perché trasformano i quartieri in comunità all'interno di questa piazza cresceranno in bambini che potranno divertirsi si vivrà maggiormente il senso di comunità è un po l'obiettivo di queste nostre iniziative ne abbiamo già realizzate quattro continueremo a farlo fino alla fine del nostro mandato perché crediamo molto nella riqualificazione delle periferie grazie alla creazione di questi luoghi lavoro di quali di riqualificazione totalmente finanziato dal comune con quattrocentomila euro piazza russi torna a vivere assolutamente è uno spazio diciamo strappato al nulla e dato alla cittadinanza che potrà usufruirne e ci tengo a sottolineare con tutta la maggioranza abbiamo portato avanti questo progetto in modo tale da poter diciamo portare tutti i punti che erano all'ordine del giorno nel programma elettorale alla fine del lavoro e quindi stiamo andando avanti spediti come tutti quanti potrete vedere sotto l'occhio di tutti il lavoro all'acca degli uffici con a capo la dirigente di generale rosa per fiore tutti i funzionari che la supportano dell'amministrazione con a capo il signor zaccaria me per l'ai lavori pubblici l'aggiunto e tutti i consiglieri un lavoro di squadra che sta portando i frutti sperati e io sono molto orgoglioso e sarò sempre un riconoscente al sindaco per questa responsabilità ma soprattutto per aver partecipato alla riqualificazione di tantissimi spazi di cui potranno sussurri i cittadini nel vivere lo spazio pubblico e la socialità giusta oggi si taglia il nastro qui a breve la stazione adesso stiamo per tagliare qui il naso è stato tutto rispettato con il programma previsto e la stazione stanno riprendendo i lavori che erano stati sospesi per il G7 adesso a breve riprenderanno e dovrebbero essere consegnati entro il mese di luglio grazie grazie